Qualcosa si muove nel mese di aprile saranno vaccinati anche i disabili o meglio continueranno ad essere vaccinati poiché finora ne abbiamo fatti 1.600 in tutte le marche precisa l'assessore regionale Salta Martini e proseguiremo ad aprile arriveranno 133.000 dosi di Pfizer 44.460 al 12 aprile e questo ci permetterà di andare avanti con le categorie fragili in tutto dovremo vaccinare 240.000 disabili di cui 80.000 diabetici e continueremo anche con i 117.000 super fragili per i quali le vaccinazioni sono già partite il grosso dei vaccini per i disabili fa sapere Salta Martini sarà fatto nel mese di aprile ciò non significa partire dal primo aprile precisa l'assessore ma tenete conto che dal primo aprile a fine giugno arriveranno un milione di dosi e questo ci consentirà di procedere con le vaccinazioni anche per questo tipo di soggetti esulta la consigliera micaela vitri che proprio su questo tema ha presentato una mozione in consiglio regionale mi fa piacere che la nostra richiesta sia stata recepita perché finalmente sono tutelate le persone vulnerabili scrive vitri in una nota anche se ancora nessuna risposta è arrivata sui loro familiari ed assistenti uno dei primi a portare avanti la battaglia sulle vaccinazioni per i disabili è stato massimo domenicucci presidente di piattaforma solidale che ha commentato così la notizia sull'avvio delle prenotazioni riservate alla loro categoria prima battuta con entusiasmo poi dopo facendo una riflessione un po più accurata approfondita ci sono venuti già dei dubbi perché nell'intervento che ha fatto l'assessore regionale durante la consulta ha dichiarato cose contrastanti fra loro perché in prima battuta ha detto che i disabili o verano chiamati oppure dovranno contattare il proprio medico di famiglia quindi cosa significa o l'una o l'altra per chiarezza e in più ha parlato solo dei disabili mentre noi il problema l'avevamo posto in prima battuta anche per i familiari e chi assiste il disabile perché il dramma vero è proprio quello lei tra l'altro il covid l'ha avuto quindi a maggior ragione richiede questo inserimento celere nel piano delle vaccinazioni per i disabili sì il covid l'ha avuto anche sperimentato sulla mia pelle la mancanza di attenzione da parte delle istituzioni perché le istituzioni sanno bene chi sono i soggetti che hanno una disabilità grave quindi un handicap accertato con la legge 104 lo sanno bene ma durante quel periodo che è durato ben 40 giorni non sono mai stato contattato da nessun ente tranne l'azienda sanitaria che è venuta a farmi il tampone a casa non ho sentito più nessuno che venisse a chiedere se avevamo delle esigenze delle necessità perché anche mia moglie che mi accudisce si era malata quindi non potevamo uscire non potevamo fare niente da soli e gli amici ci ha dato una grossa mano e gli amici ci ha dato un'altra grossa